Un next stop in Lombardia, un viaggio lungo 10.000 km che attraverserà l'Europa. Il cittadino, cioè il turista, potrà avvicinarlo e conoscere ed entrare a far parte di un'esperienza che lo porterà nel nostro territorio. Considerando che il 55% dei turisti che vengono da giù in Lombardia sono stranieri, abbiamo pensato che questo tipo di informazione, di questo bus digitale, possa essere un'azione molto importante di promozione di marketing territoriale supportata dagli enti territoriali. Credo si debba portare le specificità della nostra regione che sono sicuramente migliori di quanto ancora oggi si possa immaginare. Abbiamo veramente la possibilità di dare una risposta a ogni tipo di esigenza. Credo inoltre che sia l'occasione giusta per promuovere, facendo conoscere il nostro territorio, anche la candidatura di Lombardia e di Milano alle prossime Olimpiadi del 2026.